Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento, per raccontarvi quello che accadde il 13 novembre del 1917. Padre Pio finalmente torna in convento. Questo giovanotto di 30 anni, perché tornava qui a San Giovanni Rotondo? Perché lo abbiamo raccontato qualche giorno fa. Era in licenza e dovette stare qualche giorno a casa per riprendere il suo abito di frate Cappuccino. Padre Pio aveva trascorso diversi mesi a Napoli e venne mandato in licenza, proprio il 6 novembre del 1917. E dal 6 all'11 stette a Pietrelcina. Tanto è vero che a Pietrelcina, quando ritornò alcuni familiari, amici, parenti, andandolo a trovare a casa, lo volevano vedere in divisa. E lui li accontentò, si rimise la divisa, giusto per far vedere a tutti qual era la divisa militare, e poi fece una battuta, quella che un po' anche i libri che raccontano la sua storia ci raccontano. Ora avete visto il pagliaccio? E tutti ridevano a questa battuta di Padre Pio, così soldato. Ma Padre Pio, tornando qui a San Giovanni Rotondo, fu veramente una prova per lui. Infatti in questa giornata Padre Pio prese carta e penne e scrisse a Padre Benedetto quello che era accaduto. Ancora una volta Satana ha voluto mortificarmi. Domenica presi il primo treno a Pietrelcina, partendo alla volta di Foggia. Qui presi subito il treno per Lucera per venire da voi. Infatti Padre Benedetto, che si trovava a San Marco la Catola, aveva chiesto a Padre Pio prima di tornare a San Giovanni Rotondo di passare per San Marco la Catola e stare con lui qualche giorno per conferire con lui. Ma purtroppo a Lucera scrive Padre Pio, fui sfortunato, non vi erano neanche posti nell'automobile. Erano tutti al completo e quello che più mi mortificò fu che nemmeno all'indomani avrei trovato posto. Infatti il giorno dopo scrive anche a Padre Agostino raccontandogli tutto quello che gli era capitato e inoltre appunta anche questo. Avevo chiesto una cortesia alle anime del purgatorio ma non sono riuscito a trovare posto sull'automobile che partiva per San Marco la Catola. Non mi sentivo proprio bene, scrive ancora Padre Pio e lo scrive anche a Padre Benedetto. Avevo febbre alta. Mi decisi così allora a prendere il treno per Foggia e così ieri fui astretto da necessità a stare qui a San Giovanni Rotondo perché, e lo spiega subito Padre Pio, non potevo più procrastinare, si stavano esaurendo i giorni disponibili per riconsegnare quella divisa ai reali carabinieri. Quindi lui il giorno prima si era recato alla caserma dei carabinieri per consegnare la divisa militare. Quella divisa che se non l'avesse consegnata avrebbe dovuto pagare 50 lire di addebito. Grazie a tutti.